Sei più lente del... Cosa? Perché? Dei fare la cacca? Cosa può cambiare in una giornata ok? Una fastidiosa diarrea. Scegli Immodium, non fermarti. Immodium oro solubile. Scusate ma intanto è un momento particolare e il signore è andato a fare la cacca. Io mi giro, eh? Non guardo? Scegli Immodium, non fermarti. Ah, già fatto? Va bene, andiamo. Immodium è un medicinale, leggere attentamente i fogli illustrativi. Gli è preso il momento cacca. Ragazzi voi che sapete farlo, clippate questo momento gioioso.